È scontro tra il partito socialista romeno e il presidente romeno Ioannis, dopo che quest'ultimo ha respinto la candidatura di Seville Scheidei per la carica di primo ministro. Il paese dovrà quindi attendere ancora prima di avere alla guida di un nuovo governo una donna. Quest'uomo vuole innescare una crisi politica in Romania. Non è una decisione facile, condurremo una rapida analisi e se, in seguito a questa, decideremo che sarà meglio per il paese sospendere il presidente, non esiteremo. Da parte sua, il presidente Klaus Ioannis ha respinto la proposta senza esplicitare i motivi del rifiuto e ha invitato la coalizione a fare un altro nome. Seville Scheidei, 52 anni, musulmane, è una stritta collaboratrice di Liviu Dragnea, leader del partito socialista, che ha vinto le legislative dell'11 dicembre ma che non può assumere un incarico ministeriale a causa di una vecchia condanna per frode elettorale. Scheidei sarebbe stata la prima donna a capo del governo di Bucharest.